Napoli ha nel suo elemento costitutivo, nella sua storia, nella sua identità, la cultura antifascista. L'ha dimostrato non a parole ma con una lotta di liberazione unica nella storia del mondo, che è la liberazione di Napoli dall'occupazione nazifascista con le quattro giornate di Napoli, una rivolta di popolo. Noi quei valori li sentiamo dentro, li abbiamo radicati fortemente, difendiamo la Costituzione Repubblicana, che è ben lungi dall'essere ancora attuata, mentre altri cercano di smantellarla quotidianamente pure, con leggi ordinarie, con ricorsi alla fiducia. Noi a Napoli difendiamo la Costituzione, con comportamenti, prassi, lotte anche dal basso e il legame storico con l'Ampi l'abbiamo dimostrato anche in questi anni con l'individuazione di una sede alla Galleria Principe di Napoli, in modo che il luogo della memoria dell'Ampi, dei partigiani, contro ogni forma di revisionismo.